In frigo i poliziotti hanno trovato un panetto di hashish, oltre che un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi, ma non solo. Sempre in casa aveva anche una collezione di armi non regolarmente denunciate, tra cui una katana giapponese. È così finito agli arresti domiciliari un 25enne, accusato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di uno dei risultati dell'operazione ribattezzata Alto Impatto, una serie di controlli per contrastare e prevenire sul territorio il fenomeno dei reati predatori commessi ai danni delle aziende orafe, controlli che si sono concentrati nelle aree dei distretti orafi, ma anche nelle zone urbane più difficili sul fronte della microcriminalità. A scendere in campo sono stati gli agenti della squadra mobile assieme al dirigente Davide Comito e agli equipaggi del reparto Prevenzione e Crimine della Toscana. Al termine dell'operazione sono stati controllati 75 veicoli, identificate 120 persone ed è stata data esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Sono stati effettuati poi posti di controllo intercettando diversi soggetti gravati da precedenti penali e di polizia. Sono stati svolti accertamenti nei confronti di vari esercizi commerciali e sono state effettuate diverse perquisizioni alla ricerca di armi, esplosivi ed oggetti atti ad offendere. Infine è stato beccato il presunto pusher che all'interno della propria abitazione aveva diverse armi non regolarmente denunciate ma anche 105 grammi di hashish custoditi e 1.050 euro in banconote di piccolo taglio.